Ciao e benvenuti ad un nuovo video. Oggi andremo a vedere qual è stato il mazzo vincitore dell'ultimo sondaggio. In Lizza c'erano l'oracolo della terapia angelica, l'oracolo degli arcangeli e l'oracolo dell'arcangelo Michele. Tutti e tre i mazzi, come avete potuto notare, sono di Dorinbirto e in base alle vostre votazioni che avete fatto sulla pagina Facebook delle leggi della magia, l'oracolo vincitore e quindi quello che conosceremo oggi è l'oracolo dell'arcangelo Michele. Questo oracolo è come al solito, come tutti i mazzi di Dorinbirto, veramente veramente bello ed è dedicato a questo potente arcangelo. È composto il mazzo dalla miniguida, come vedete il mio è in inglese perché io comunque le ho presi tempo fa, però adesso li hanno tradotti in italiano, quindi se preferite potete prenderlo in italiano tranquillamente e c'è appunto la miniguida, come al solito, con la spiegazione di tutte le 44 carte che compongono questo mazzo. Questo è il dietro, c'è appunto l'immagine e queste sono invece le carte che vi faccio vedere. Questo mazzo è chiaramente legato a questo potente arcangelo che dà delle risposte alle nostre domande. Dopo, come al solito, estrarremo una carta per avere il nostro messaggio da parte di questo mazzo e vi voglio far vedere una cosa. Allora, oltre ad avere il messaggio appunto dall'arcangelo Michele, come c'è scritto qui, e dà il messaggio. Poi c'è l'immagine e poi infine c'è una preghiera appunto che la persona deve fare a questo arcangelo affinché possa armonizzarsi con la risposta ricevuta. Ora vi faccio un esempio pratico appunto andando a mischiare queste carte, ne trarremo una che sarà il messaggio per tutti noi da parte di questo potente arcangelo. Andiamo a vedere appunto la carta estratta. Proteggi te stesso. Quindi il messaggio che ci viene da questo potente arcangelo è quello di proteggerci, quindi un messaggio di protezione. È assolutamente in linea con le caratteristiche di questo arcangelo. Infatti Michele è l'arcangelo che chiamiamo quando abbiamo bisogno di sentirci protetti o di essere appunto difesi. Lui è il braccio armato, possiamo dire, degli arcangeli ed è a capo di tutte le schiere angeliche e il suo nome è appunto colui che è come Dio. quindi è il più potente forse tra gli arcangeli, sicuramente quello più potente ai fini della protezione. Questa carta quindi ci dice appunto di proteggerci ed è il messaggio che ci dà l'arcangelo Michele e poi come vi dicevo c'è una preghiera che noi facciamo a questo arcangelo e in questo caso ci dice arcangelo Michele io ti chiedo di proteggere me e i miei cari il mio veicolo quindi il mio mezzo di trasporto e la mia casa con il tuo scudo potente. Mandaci la tua luce brillante e schermaci con la tua luce brillante e che possa essere attraversata soltanto dall'amore. Ti prevo di stare con me tutto il giorno e tutti i giorni e tutta la notte e di tenere i miei cari al sicuro. Come sempre poi prendendo il libretto troviamo appunto la carta, la spiegazione della carta e dei significati aggiuntivi. In questo caso appunto ci sta il suggerimento di portare addosso o sempre con sé anche un cristallo per esempio di ossidiana nera per aumentare la protezione e poi dice anche appunto di possiamo metterli anche in macchina un qualcosa di protezione e di usare la cauzione, di essere cauti nelle situazioni o nelle relazioni. Quindi il messaggio che ci danno queste carte ha un messaggio appunto di protezione, di prenderci cura di noi stesse e di chiedere aiuto all'arcangelo Michele al fine di essere protetti dal suo potente scudo di luce. Quindi insomma possiamo ritenerci al sicuro insomma sotto la tutela di questo potente arcangelo. Vi ho fatto conoscere questo oracolo che è particolarissimo e tutto dedicato appunto all'arcangelo Michele e tutte le carte sono una risposta da parte di questo potente arcangelo a noi e alle nostre domande, ai nostri dubbi. Spero che vi sia piaciuto, grazie a tutti quelli che hanno votato il sondaggio e hanno fatto sì che venisse scelto questo oracolo. Quindi alla prossima, per qualunque cosa trovate anche articoli dedicati a angeli, angeli custodi, arcangeli eccetera sul mio blog www.leggidelamagia.com se volete giocare poi con me e votare i vari sondaggi invece mi trovate su Facebook nella pagina Le Leggi della Magia. Grazie e a presto, ciao! Grazie a tutti!